Ciao amici, il tempo passa per tutti e ogni giorno siamo sempre un po' più vecchi. Ci pensate mai? Io sì, anche io, ma per fortuna il cibo può aiutare a mantenere giovane il cervello, anzi può rallentare il declino cognitivo e non farci invecchiare prima del tempo. Meglio che i neuroni restino giovani e scattanti a comunicare tra loro, cosa ne dite? Vediamo oggi quali alimenti possono contrastare il declino cognitivo e prevenire la demenza senile. Bisogna iniziare da giovani però, se vi sembra una buona idea mettete subito un bel mi piace a questo video, tanti mi piace, tanti nuovi video. Ecco allora quali cibi consumare per mantenere il cervello giovane con neuroni efficienti e buone performance cognitive. I cibi consigliati sono 1. Burro, avocado e salmone. Contengono vitamina D che risana i neuroni danneggiati attraverso l'aumento dell'attività delle cellule gliali e il cervello ne trae grande beneficio. 2. Uova, in particolare il tuorlo d'uovo ricco di colina, ha effetti positivi sulle capacità cognitive e percettive. 3. Cibi che contengono omega 3 come il pesce. Salmone, frutti di mare, sgombro e pesce azzurro sono ricchi di acidi grassi che agiscono positivamente sul cervello. 4. Cibi con alte concentrazioni di EPA e di HA. Sono acidi grassi presenti sempre nel pesce e anche nelle alghe secche come la nori e la kombu. Cosa dobbiamo evitare invece? I nemici della prevenzione sono zuccheri e carboidrati raffinati consumati in eccesso perché danno origine a picchi insulinici seguiti da cali di attenzione, stanchezza e ovattamento delle capacità di concentrazione. Ultima curiosità, anche la consistenza dei cibi è importante. Masticare a lungo cibi solidi e croccanti porta ossigeno al cervello, un ottimo aiuto per la neurogenesi, cioè la capacità delle cellule di autorigenerarsi. Al contrario, cibi sempre omogeneizzati, molli, semi liquidi possono rallentare la crescita e il benessere del cervello. Quindi le carote crude e le mele croccanti come snack fanno benissimo non solo alla linea ma anche al cervello. Per vedere tanti altri video sui migliori alimenti e rimedi naturali basta iscriversi al canale, è facile, con un clic così e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche qui sotto. Mangia consapevole e vivi meglio! Diventa anche tu trendy e sano con Simona Vignali. Eventi live, vacanze wellness, scuola di naturopatia, consulenze di salute naturale, libri e ebook per il tuo benessere. Info in descrizione. Ogni giorno sempre più trendy e sani con Simona Vignali naturalmente. Ciao!